Un'intera linea ferroviaria cancellata, la Napoli-Pompei-Poggio Marino, collegamenti saltati con Sarno e Baiano. La decisione dell'Eav, l'azienda che gestisce la circonvesuviana, suscita indignazione e proteste tra i pendolari, lavoratori e studenti universitari rimasti a piedi. Un provvedimento, dicono in tanti, che si sono recati in stazione e aver saputo del blackout, incredibile. Per una diatriba tra aziende e sindacati si fanno pagare le conseguenze ai viaggiatori. Sui social i commenti si moltiplicano. Vergogna, scrive qualcuno. Sono impazziti, come facciamo ad andare a lavorare? Chiede un altro. Enzo Ciniglio, rappresentante dei pendolari, scrive su Facebook questa è pura follia, inadeguatezza dirigenziale. Ci sono gli elementi per una denuncia per truffa. E la situazione oggi pesante rischia di diventare drammatica con la prossima riapertura delle scuole, visto che migliaia di studenti si spostano normalmente in treno per raggiungere le scuole. E anche oggi la situazione è critica sul resto della rete. Due corse mattutine cancellate senza preavviso, tra cui una lungo la linea Napoli-Sorrento, considerata strategica. Altre 26 che l'azienda indica come non garantite. L'ente autonomo Volturno, che gestisce le tratte che collegano il capoluogo a numerose città della provincia, ha stigmatizzato l'improvviso rifiuto di accettare le prestazioni straordinarie da parte di un significativo gruppo di lavoratori afferenti al personale di bordo. A pagare lo scotto di questa situazione, migliaia di pendolari rimasti a piedi.